Salve a tutti, sono Nunzio Morla, ho 38 anni, vivo a Scampia. La mia attuale professione è quella dell'attore, ma il mio passato è quello del volontariato, nell'associazionismo, nel recupero minori a rischio. Da un po' di anni ho cominciato a frequentare il Meetup Napoli, amici di Beppe Grillo, e con loro ho condiviso battaglie, battaglie vere, sincere, coerenti. Ne ho visti di politici a Scampia che si sono presentati promettendo, promettendo e non facendo mai nulla. Io credo che invece adesso è possibile che i cittadini si mettano veramente insieme per costruire qualcosa di diverso. Non aspettiamo che gli altri ci diano la possibilità, ci dobbiamo dare noi la possibilità di fare qualcosa, qualcosa per noi, qualcosa di vero, qualcosa di onesto. Io ho scelto di candidarmi nel Movimento 5 Stelle Campania per condividere questo progetto che abbiamo portato insieme tutti quanti, per una campagna nuova, ma soprattutto per gente nuova. Il nostro scopo non è abbattere la politica o cambiare la politica, cambiamo lo stato di cose, partendo dai singoli cittadini. Diamoci tutti una seconda possibilità.